Buongiorno a tutti, siamo qui con Mr. Merlo, dopo un'ottima vittoria contro il Pro Dronero ti chiedo oggi che parte è stata, forse fin da subito una battaglia contro il Pro Dronero. Guarda, da una parte sono felice perché il Dronero è venuto qua e veramente ha fatto una partita gagliarda, eccezionale. Non dico che ci ha sorpreso perché lo sapevamo che l'Orso è una squadra che non ti molla niente assolutamente. Noi abbiamo fatto una buona gara, siamo stati puniti su degli episodi abbastanza incredibili perché il calcio di rigore è l'oro che c'è, senza nessun dubbio, però sono quei rigori che gli danno nella nuova epoca del calcio, perché su un cross uno ha la mano attaccata, però è rigore, niente da dire. Di lì abbiamo avuto una reazione importantissima con l'Eurogoal di Grandoni dopo due minuti, poi c'è, palo di Alfiero, traversa di De Sosa, palla e gola a non finire, ultimo minuto del primo tempo, hanno scavato una palla sul secondo palo e abbiamo preso il 2-1. Nel recupero ha fatto una giocata incredibile Diego e Alfio ci ha riportato sul 2-2 andando a riposo. Poi noi sapevamo di avere qualche armi in panchina fresca mentre il dronero era un po' più tirato a quel punto di vista lì. Comunque poi la differenza nel secondo tempo si è vista perché abbiamo creato veramente, non so, quante occasioni da gol. E poi ci ha pensato il nostro puntero, il nostro Diego Milito, come vuoi farsi chiamare lui, che ha fatto un grandissimo gol su una cosa che facevano su calcio d'angolo, ha fatto un gran gol sul secondo palo. Poi è stata una sofferenza, poi nel 1995 ci hanno detto che Saluzzo ha fatto gol, invece Saluzzo ha pareggiato. Abbiamo una speranza, abbiamo una speranza e noi non possiamo recriminare su quello che è stato. Abbiamo fatto un cammino nel ritorno, 12 vittorie, un pareggio, una sconfitta. La cosa che mi erode di più sono i due gol presi oggi che ci portano 8 su 14 partite, che comunque è sempre un buon score difensivo. Abbiamo sofferto, abbiamo sofferto veramente come cani, ma l'abbiamo portata a casa con tutte le forze che ci rimanevano in una settimana da 9 punti con tre squadre forti, perché oggi il Vanchiglia mi sembra abbia vinto. La Valenzana ha perso una Valenzana squadra forte e il dronero è sempre il solito dronero, io scherzo sempre con loro all'ordinatore, dico per battere voi bisogna, veramente vado a casa, mi peso, sono 4 kg in meno oggi. Però faccio un grande applauso ai ragazzi, perché hanno avuto cuore, hanno avuto testa, hanno avuto tutto, hanno gettato tutto oltre all'ostacolo e adesso abbiamo una settimana dove dobbiamo preparare una finale di Champions contro Lucherasco, sapendo che non ci regaleranno nulla, ma noi dobbiamo completare il nostro percorso. Se poi il Saluzzo vince gli batteremo le mani, perché è stato un testa a testa meraviglioso. Mi serve che su questa partita poi vengo a dirti questo. Cosa servirà per battere la Canesquese e che settimana sarà soprattutto anche a livello, soprattutto mentale, perché fisicamente stiamo bene, stiamo benissimo. Devo dire grazie al mio staff sotto quell'aspetto lì. Servirà partita intelligente, ma lucida, sapendo che loro sono davanti al loro pubblico, come giusto che sia non ci regaleranno nulla, però noi abbiamo delle motivazioni veramente importanti, che non ci devono far fare il salto al contrario, quando la senti troppo, noi dobbiamo andare in campo, come siamo andati in campo sempre. Noi della prima di ritorno che abbiamo sempre solo un risultato a disposizione e il nostro grande cammino è quello che non ci siamo mai fatti impaurire da niente. Forse oggi è la prima volta che vinciamo a otto minuti dalla fine, se no sono sempre partite che riusciamo ad andare in vantaggio. Oggi è stata veramente dura e quindi anche col Carrasco dovremo fare una settimana di serenità, di attenzione, di grande intensità quando faremo le cose e poi saremo pronti per l'ultima battaglia. Se è l'ultima e se non è l'ultima magari c'è ancora una, ancora due, tre, quattro, chi lo sa. Saremo pronti. Ti dico anche questo, avrai tutti a disposizione per l'arrivo contro Carrasco? Non so, forse Cesaretti si era squalificato perché era in diffida e mi sembra di aver preso l'ammunizione, il resto stanno tutti bene. Fortunatamente se posso scegliere, a volte gli attori quando hanno troppe scelte fanno casino, però noi abbiamo l'idea chiara e quindi cercheremo di farne il meno possibile. Grazie mille. Grazie.